Pubblico di Cervinia, fate un po' di rubane! Oh, eccole lì! Ci siete, ci siete! DJ, gli spari il solito rock'n'roll? Rock'n'roll! Siguo, approccia il papo di Cervinia dai finali! Eh, è difficile, è difficile! È già difficile per la giuria! Guarda, Nick Borella, Andreas Bacher, per me personalissimamente! Però attenzione perché Filippo Crudelli è ripartito in switch, ha chiuso switchback 6.5, per una prima randre stilosissima! Prima preciso, vediamo adesso cosa fa! Switchback 6.7! Tranquillo, anche lui, veramente, veramente! Livello altissimo, lo si vede dalla sicurezza degli atterraggi! Ecco, questa rastina ha reso semplicissimo! Una manovra veramente difficile! Switchback 7, va bene! E adesso Boris Gruber, prima aveva fatto un 5.40 cross, double nose grab, con tutte e due le mani sul nose, e l'ultima copia per l'Alan Tecnica, e poi avremo le ultime 5 coppie di salti, e poi di nuovo la FMX per la conclusione di questo Tiguan Pro Jump! Sì, c'è anche il Tiguan Show! Eh sì, e anche le Tiguan Premiazioni! Eh sì! E il Tiguan Concorso, e poi il Tiguan Aperitivo e il Tiguan Party! Tutto Tiguan! Allora, vediamo... Borix Gruber! Oh, 900 lo tiene! Lo tiene anche se spada è questo! Al risponso finale, chiaramente, conterà, però, grandissimo recupero di forza, di volontà! È stato lì con le unghie che non si è tagliato stamattina! E adesso... È l'ultima run! Ultima run, quindi ultimo salto per ogni rider! Quindi, gente, facciamoci sentire che siamo a livello veramente alto, ci sono tre coppie che hanno girato benissimo, e, diciamo, senza sbavare nulla, vediamo chi sarà il vincitore! E poi ci sono le altre due coppie che sono magari cadute di qua e di là, che sperano, chiaramente, di spingere, e comunque ci sono premi per tutti e cinque, e bisogna arrivare all'assegno nei primi tre! Ah, sì! I primi tre ce l'assegno! Gli altri due ce l'assiemo all'orologio assunto! I soldoni! I soldoni! Anzi, che ore sono sul tuo assunto? Non ce la faccio aprire la giacca! E io ti spoglio! Sono le 20 e 70! Quella è l'altimetro! Mi piace vedere l'altimetro! Tiguan Pro Jump di Cervina, la seconda tappa del Tiguan Pro Jump Tour 2007-2008, dopo essere stati a serva di Val Gardena. eccoci qua a Cervina con l'ultima run di finale! Ultima run di finale, quindi ogni coppia decide se fare un salto, diciamo, di stile oppure fare un salto di tecnica. Quasi sicuramente andranno tutti sulla tecnica. E infatti la coppia numero uno ha appena scelto lo stile! Eccolo lì, giusto per... I primi finalisti e il Val Gardena ha nessuno stile. Per cui massimo 5,40 per Stefano Munari e Tobias Binazzer. Stefano Munari! Stefano Munari che secondo me opta per lo stile, perché non sta bene. Non sta bene, è stato male tutta la notte, non ha dormito. Però preciso, preciso con lo stile. Facciamo un bel applauso a Stefano Munari, che chiude la sua prova di oggi. Veramente stoico, generosissimo. Muni che... E ha saltato lo stesso. Ha saltato lo stesso, nonostante veramente lo squad house. Non interessa niente neanche a Tobias Binazzer, che si mette in fechi per la sua run di stile. Fechi 5! Fechi 5 e Creil per Tobias Binazzer. Fa spanato l'atterraggio, però buono. Facciamo un applauso anche a Tobias Binazzer! E quindi la prima coppia termina la sua prova. Ed eccolo qua, Ricky Suppo! Loro per cosa avranno optato, secondo te? Tecnica! No, stile. Stile? Prozza e tre, Ricky Suppo! Fronza e tre per Ricky Suppo! Che praticamente può farlo pentato questo trick. Tu ti stile stasera, eh? Mattia Stabro! Mattia Stabro! Lo stile e cosa fa? Ci fa ancora il fechi to fechi drittone? Qua dovrebbe fare fechi backflip. Qua invece fechi to fechi drittone... POS coordinato... Era fechi to fechi ciclette. Siclettato. Mattia Stabro e Ricky Suppo! Facciamo un applauso anche per loro! Seconda coppia! Via! Abbiamo la terza coppia tra i favoriti! Sento la tecnica! Nicola Borella! E Andreas Bacher! Guardiamo la tecnica, quindi ruoteranno a nastro. Vediamo cosa ci propone Nick Borella! E switch! Occhio che sono gli ultimi salti! Oh! Cap 9 per Ricky Borella! Cap 9! Lei beccato l'atterraggio! Diciamo un po' sporchino! Però giustamente l'ha buttata perché erano già messi bene! Un po' sporchino l'atterraggio! Vedremo! Tanto Chiala! Vediamo! Un po' ferro! Vediamo! Vediamo! E adesso Andreas Bacher! Andreas spinge ragazzi! Sta spingendo ma in retro! C'ho paura! Feky to Feky 1000! Ancora Feky to Feky 1000! Feky to Feky 1000! E questi sono tutti i fatti di Fabian Dallasser e Kiko Massimo! Si possono ripetere nella terza run i jump già effettuati nelle prime due! Attenzione perché tra pochi salti ripartiremo con la Freestyle Motocross per cui avvertiamo Max Bianconcini e Carlo Caresana di prepararsi! Adesso abbiamo ancora due coppie e poi rimanete però il parterre! Perché ci sarà il Tiguan Show sull'atterraggio del salto! Attenzione perché abbiamo Simon Gruber e Stefano Jex in stile! Grandi stile quindi per Simon Gruber! Vai Simone! Fai bene un bel salto! Un bel backside 180 dai! Ok Simon Gruber! Un applauso anche per lui! Adesso Stefano Jex! Ok Stefano! Ok adesso la grepa da paura! Vai in forward qui di Madrido Stefano Jex! Per lui 5.40! Ultima coppia tecnica! Ultima coppia tecnica! Solo così adesso te la butto lì giusto per fare del giornalismo semplicistico! Solo loro possono tirar giù dal podio il Morella! Secondo noi! Poi può cambiare tutto perché noi non contiamo niente! Come lo dici! Però Filippo Crudeli dopo aver fatto switchback side 5, switchback side 7 parte un'altra volta il switch! E adesso se parte switchback side 9 tira giù tutto! Io tiro giù tutto! Cosa? E' il microfono! Ok vediamo! Vai crudo! Ultimo salto per il crudo! Occhio veramente a come lo fa! Eccolo! 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 No way! Switchback side 9! No way! No 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 no! Switchback side 5, switchback side 7, switchback side 9! Questo è Filippo Crudeli! Ai ai ai! Adesso vediamo! Vediamo cosa ha! Cosa ha! Moritz Grubber! Ultimo salto della giornata! Ultimo salto della giornata! Vediamo Moritz cosa fa! C'è il podio qua! Dove va da 900 cork prima! Eeeh! No! 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 Moritz tutto a posto? Tutto a posto Moritz! Un applauso! Moritz Grubber! Accidenti veramente qua c'era c'era o c'è comunque su questo salto c'è il podio! Siore e siori, è arrivati alla costruzione di questo salto applauso! Un serone! Incluso la faccia segnata! Musica! 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 Un applauso! Grazie a tutti.